Un passo gigantesco per mettere fine all'incubo dell'Obamacare. Così il presidente americano Donald Trump ha brindato al passaggio della mozione al Senato che permette ai legislatori di quest'Aula di iniziare il dibattito sulla riforma sanitaria. Una vittoria significativa per il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, e per lo stesso presidente USA. Infatti il senatore repubblicano dell'Arizona, John McCain, si è presentato al congresso per votare, nonostante la settimana scorsa sia stato operato per un tumore al cervello. Il suo è stato il voto decisivo per l'approvazione della mozione. La legge varata dall'amministrazione Obama per dare copertura assicurativa anche alle fasce meno abbienti della popolazione americana sembra più vicina ad essere smantellata, ma la riforma Trump, per quanto se ne capisce, potrebbe lasciare senza copertura sanitaria decine di milioni di cittadini. Il partito repubblicano sembra incapace di trovare una direzione sui dettagli, mentre per Trump l'essenziale sembra cancellare Obamacare.